Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Nelle ultime ore una notizia ha devastato i fan di Emma Marrone, per la quale purtroppo non c'è stato nulla da fare Prima di intraprendere il percorso in solitaria, Emma ha fatto parte di alcuni gruppi musicali fino a quando un evento ha cambiato totalmente la sua carriera Nel 2010 infatti, ha vinto il talent show di Amici di Maria De Filippi, laureandosi campionessa in occasione della non-edizione Da quel momento in poi per lei si è spianata la strada, come possiamo dedurre dai molteplici successi riscossi nel giro di qualche anno Dopo quella del programma della moglie di Costanzo infatti, per lei è arrivata subito un'altra vittoria La Marrone ha trionfato nel 2012 al Festival di Sanremo, con un brano intitolato Non è l'Inferno Si tratta di un pezzo impegnato in quanto riguarda la difficile situazione economica e sociale del nostro paese I riconoscimenti per la nostra fantastica artista non sono tuttavia finiti qui In seguito ha infatti aggiunto alla collezione un Venice Music Award, tre MTV Awards e innumerevoli Wind Music Awards, oltre alla vendita di milioni e milioni di dischi che testimoniano l'affetto dei suoi fans Emma Marrone costretta all'addio.Con il passare del tempo la Marrone è diventata anche un personaggio televisivo, prendendo parte alle riprese di alcune trasmissioni molto in voga soprattutto tra il pubblico più giovane Nelle ultime due stagioni ha partecipato ad altrettante edizioni di X Factor, al fianco di altri tre esperti come Mika, Manuel Agnelli ed El Raton Nonostante il gradimento dei milioni di fans ed il divertimento della stessa Emma, quest'ultima purtroppo non è stata confermata in vista della prossima stagione del celebre talent show targato Sky A lanciare l'indiscrezione è stata la nota rivista settimanale Chi, poi confermata da altre fonti come ad esempio, Blog Possiamo confermare l'indiscrezione di chi che ha dato per certo Emma fuori dalla giuria, questo è quanto riferito all'interno di una Instagram Stories della pagina di Blog Attraverso le frasi appena riportate abbiamo avuto la certezza che non vedremo più la marrone all'interno della giuria di X Factor, notizia che ha fortemente contrariato i tanti fans della cantante italiana La sua esperienza in ambito musicale e la sua energia con cui affronta ogni sfida non sono dunque state sufficienti per ricevere una conferma che, fino a qualche settimana fa, sembrava invece scontata Adesso non resta che capire se il suo sarà l'unico addio oppure se la giuria del talent show subirà ulteriori cambiamenti Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao